Era già stato assicurato alla giustizia ma ora la sua posizione si aggrava ulteriormente. Pasquale Montanaro, 40 anni, originario di Foggia ma residente a Rimini, era stato fermato in flagranza di reato mentre stava per rapinare la farmacia Rinaldi in via Negusanti a Fano. Durante l'interrogatorio aveva confessato di essere l'autore anche di una precedente rapina commessa il 26 giugno scorso nella stessa farmacia dove prima di rubare 800 euro aveva chiuso le dipendenti dentro uno sgabuzzino. Aveva messo a segno inoltre un colpo in un supermercato in via Titosperi, sempre nella città della Fortuna. Montanaro era stato messo in libertà solo lo scorso mese di marzo dopo aver scontato sei anni di carcere per altre rapine compiute in farmacia nella città di Pesore e dintorni. Ma le indagini in questi mesi sono proseguite da parte degli agenti del commissariato di Fano coordinati da Stefano Seretti. Un'attività di indagine che ha permesso di addebitare a questo malvivente rapinatore seriale professionista delle rapine altri dieci colpi. Aveva colpito un po' a Raggera spostandosi da Rimini dove risiedeva, quindi nord delle Marche, la provincia di Pesore Urbino e anche nella stessa Romagna. Forlì aveva fatto quattro colpi a Rimini e Riccione altri due colpi, altri due colpi qui a Pesore nel capoluogo e altri tre colpi praticamente a Fano. Questo nell'arco di due mesi, due mesi e mezzo, non più di tre mesi. Il suo modus operandi era più o meno sempre lo stesso. Rubava auto o scooter per spostarsi, selezionava in particolare le donne come sue vittime, le minacciava con un taglierino o con un grosso cacciavite. Cacciavite, addirittura quando il primo giugno scorso aveva preso di miera il supermercato AEO, durante la fuga a bordo di un'auto aveva causato uno scontro frontale, procurando lesioni gravi alla conducente dell'altro veicolo. La donna, trasportata al pronto soccorso, ne era uscita con 30 giorni di prognosi. Lui invece si era ferito al volto, al costato ed aveva riportato la fuoriuscita di una spalla, poi si era dato alla fuga facendosi dare un passaggio da alcuni camperisti. Alle spalle ha un enorme problema di droga, di abuso, di cocaina, che lo spingeva a un'enorme necessità di prendere denaro per comprare e acquistare la droga. Un consumo veramente enorme, quotidiano, che lo spingeva a commettere rapine, anche più di una rapina al giorno. Riteniamo di aver fermato veramente uno dei più grossi rapinatori di farmacie e non solo nel nostro territorio. Grazie.